Dopo due ore Sento carmelo Sento gaiano Sento, lo santo, lo santo Perché sei tu l'amore Mi stai ascoltando A molto vedere, ciao Io abito qui Benvenuti nella mia casa Sì, la casa dei serpenti Oggi sto cantando una canzone molto particolare Una canzone di un mio cantante preferito Sai come si chiama? Ecco Non lo sapete? Non manco io lo so Quindi non lo so Ok Oggi parliamo di questo mio bellissimo paese Sagufano Ci sono molti cantanti in giro C'è un certo mocio Che è tipo rapper Poi c'è un principe Poi c'è due gruppi Poi ci saranno altra gente Ma io in questo caso Non li conosco Quindi Poi ci saranno certi Che si chiamano Eat E mangiano il pavimento Tutto il freddo E poi ci stanno Gli outsider Che stanno fuori Fuori Stanno dalla parte fuori Cioè non si capisce Non si capisce Guarda Sto paese Guarda Sto paese Com'è sto paese E ci abbiamo Cantanti Chitarristi Sonatori Di tamburi Di 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 Flaudi Cioè di tutto E di più Quindi Il mio consiglio Io spero che questi cantanti crescano Vincano Le loro sfide E Si facciano avanti tutta Ragazzi Siete formidabili Ve lo dice Federico Di Anaconda TV Bebe E quindi E quindi E quindi E vedo lì Io Non so chi sono Sti Outsider Che stanno fuori Dalla parte fuori Side out E Eat Dei frovi E mangio Il pavimento Mojo Quello che lava I pavimenti Il principe Il principe Il principe Il principe Il principe Il principe Perché non sarà nel suo castello Se vi è piaciuto questo video vi invito a lasciare un bel like A iscrivervi al canale E se Se Non lo fate Cioè Decidete Se non vi piace Va bene così Se no vi mando i miei serpenti A casa vostra Un bacio Un saluto E noi ci beccamo Al prossimo video Ora baby Ciao belli